E' arrivato una manciata di minuti prima delle sei sul sagrato della Basilica Inferiore di San Francesco, il suggestivo e intenso corteo caratterizzato dal lungo bandierone arcobaleno. Una marcia diversa alla Perugia Assisi, in notturna e in una data altamente simbolica, l'anniversario del tragico inizio della guerra in Ucraina. 1200 le persone che in una fredda notte feriale di fine febbraio hanno voluto esserci. Sicuramente lascia un segno forte anche in chi partecipa perché appunto la fatica ti fa capire e ti fa anche nel mentre ragionare su cos'è la pace. Penso che possa essere un messaggio per tutti, anche se un piccolo passo magari possa arrivare un po' a tutti. C'è basta, guerre, ma perché? Oggettivamente qualcuno deve dire qualcosa di diverso rispetto a solo riarmarsi oppure dobbiamo vincere. Vogliamo andare incontro alle vittime, provare a sentire il loro sentire. Buio, freddo, paura, stanchezza, ha detto il coordinatore della tavola della pace. E dalla città di San Francesco è partito un appello forte. C'è una responsabilità per tutti. Non è vero che l'alternativa sia tra sottomissione e guerra. La pace è l'unica strada che ci può preservare dall'inferno. Un conflitto assurdo e crudele lo aveva definito Papa Francesco, cui c'è un'unica soluzione, l'avvio di negoziati di pace. Questa marcia notturna per la pace contro tutte le guerre vuole essere un segnale forte alla politica che intraprenda la via della pace. La via della pace è la via del disarmo. A maggio, annuncia il coordinamento, ci sarà una nuova marcia, stavolta organizzata dai giovani, mentre il primo marzo si terrà un'altra iniziativa in occasione della giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta. La lunga notte della Marcia della Pace era iniziata dai giardini del frontone di Perugia intorno alla mezzanotte, ore di cammino in cui le fiaccole hanno simbolicamente illuminato il buio della guerra. Riviviamola allora nel racconto di Gabriele Salari. Pace! 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 Hanno marciato tutta la notte un migliaio di persone da Perugia ad Assisi. 24 chilometri, una notte buia come buia e la guerra nella quale siamo intrappolati, come hanno detto gli organizzatori. Siamo qui per essere contro questo tipo di guerra, per fare in modo che i governanti si seggano a un tavolo e parlino. Non si può andare solo con le armi, con i finanziamenti per armarsi. La marcia è appena partita, le fiaccole illuminano il cammino tra gli ulivi da Perugia a Ponte San Giovanni. Contro tutte le guerre, a un anno dallo scoppio di questa guerra in Europa. Russia ha fatto un casino per tutto il mondo, secondo me. Possiamo scapparci tutti e due. A Perugia, 62 anni fa, si svolse la prima marcia della pace. Il settembre 78, lo fate quasi tutte. Questo è speciale, è speciale perché siamo in un periodo di guerra guerreggiata, cosa che non avremmo mai immaginato dovrebbe accadere nel ventunesimo secolo e non c'è verso, non c'è in vista nessuna voglia proprio di posare le armi. Poco prima dell'alba, l'arrivo alla Basilica di San Francesco, stanchi, infreddoliti, ma determinati a chiedere a gran voce la pace. Facciamo un passo indietro perché già ieri, prima dell'inizio della marcia della pace, Perugia era stata teatro di altri momenti di riflessione contro tutte le guerre. Come ci spiega Alessandro Buscemi. Le fiaccole della pace si erano accese già prima della mezzanotte nel centro storico di Perugia. Il lungo serpentone della rete di associazioni Europe for Peace, partito da Piazza Italia, ha attraversato l'Acropoli fino ad arrivare in Piazza 4 Novembre per chiedere il c'è stato il fuoco, il dialogo e l'avvio dei negoziati di pace. In Piazza della Repubblica la tappa per leggere le frasi di coloro che hanno dedicato e stanno dedicando la vita alla costruzione dei processi di pace. Da Aldo Capitini a Ginostrada a Papa Francesco. Io non sono pacifista, io sono contro la guerra. L'umanità deve mettere fine alla guerra o la guerra metterà fine all'umanità. La pace più ingiusta è meno dannosa della guerra più giusta. Poi l'arrivo alla sala dei notari per l'incontro di riflessione proposta contro tutte le guerre con gli interventi tra gli altri della Presidente della provincia Proietti, dell'assessore delle comune di Perugia a Giottoli e dell'Arcivescovo di Perugia a Città della Pieve, Don Ivan Maffeis, oltre a diversi esponenti dell'associazionismo e della società civile. Cambiamo argomento.